E' stata presentata presso la sede dell'ente parco la rete del gusto della dieta mediterranea, un progetto fortemente voluto dal Parco Nazionale del Cilento, Vallodidiano e Alburni. La rete del gusto rappresenta l'identità inogastronomica del parco, spiega il presidente Tommaso Pellegrino, comunità emblematica della dieta mediterranea. L'idea è quella di fare rete mettendo in relazione produttori e ristoranti con l'obiettivo di agevolare i rapporti tra gli operatori, permettendo loro di conoscere le innumerevoli quantità di prodotti di qualità e di eccellenza realizzati nel territorio del parco. Siamo circa 100 aziende che hanno il marchio parco e soprattutto oggi andiamo a chiudere un cerchio, quello con la rete del gusto della dieta mediterranea. I ristoratori, le pizzerie, le paninoteche che utilizzano i prodotti a marchio parco oggi rientreranno appunto nella rete del gusto, quindi avranno riconosciuta il nostro simbolo, le nostre primole, una, due o tre primole sulla base del numero dei prodotti che vengono utilizzati. Oggi noi andiamo a riconoscere la territorialità, ci tengo a sottolinearlo, quindi non la qualità. È evidente ed è chiaro che riconoscere la territorialità in un territorio, nel parco nazionale dove vanno ridendo degli alburni, cioè in un'area protetta, è ovvio ed evidente che c'è anche una certa vicinanza a quella qualità, perché laddove si produce in un'area come la nostra, un'area dove abbiamo scelto di avere un territorio libero da glifosate, un territorio libero da prodotti chimici di sintesi, beh certamente oggi la produzione che può venire dal parco può essere di una certa qualità. Dall'altra parte con la rete del gusto noi andiamo a fare in modo che chi viene qui nei nostri territori può vivere quella dieta mediterranea, cioè nella comunità emblematica della dieta mediterranea non soltanto attraverso il paesaggio, l'ambiente, la cultura che c'è nei territori del parco, ma anche attraverso la cucina, attraverso l'enogastronomia, quindi mangiando i prodotti a marchio parco, perché il grande paradosso era quello che oggi chi veniva qui rischiava di non poter vivere da un punto di vista enogastronomico la dieta mediterranea. È fondamentale, aggiunge Romano Gregorio, direttore dell'ente parco, che chi arriva da noi sappia esattamente dove andare, cosa mangiare, quali percorsi fare per vivere nella sua totalità la dieta mediterranea e la sua filosofia. Il Cilento, il Vallo di Diano, Ialburni, oltre a paesaggi meravigliosi, ad un ambiente incontaminato, ai siti UNESCO, alle aree marine protette, al mare cristallino, hanno anche un infinito patrimonio fatto di eccellenze enogastronomiche che vanno valorizzate e promosse. Oggi, in occasione della consegna del riconoscimento del marchio del parco a delle aziende che hanno superato positivamente l'istruttore da parte della commissione dell'ente parco, siamo arrivati a circa 100, quindi un numero importante, ma ci sono ancora molte altre richieste che stiamo approfondendo e quindi contemporaneamente anche qui oggi nel Cilento presenteremo questo progetto della rete del gusto, che non è altro che il riconoscimento ulteriore a quelle aziende del settore enogastronomico, della gastronomia, che si obbligano ad utilizzare nella preparazione dei prodotti che sommistrano agli avventuri i prodotti al marchio parco, almeno un certo numero di prodotti, oppure di preparare dei piatti della tradizione del Cilento o ancora ad inserire nella propria carta dei vini almeno un certo numero di vini prodotti appunto nel Cilento. Direttore, quante sono le aziende che oggi vengono insinite di questo riconoscimento? Oggi sono circa una trentina e quindi arriveremo a circa 100 che già hanno questo marchio del parco, ma agli atti dell'endo ci sono ancora numerose richieste che stiamo approfondendo ed è davvero un progetto che sta riscuotendo un notevole successo da parte e questo ci fa enormemente piacere e ci spinge a fare sempre di più perché significa che forse abbiamo imbroccato la strada giusta a favore e del territorio e degli operatori economici che lavorano all'interno di questo nostro territorio bellissimo e che insieme a noi cercano di valorizzarlo e di tutelarlo.